Il 24 marzo del 1980, ore 18 e 30, nella piccola chiesa dell'ospedale per i cancerosi di San Salvador, Monsignor Oscar Romeo celebrava la messa. All'offertorio alcuni individui entrano in chiesa e sparano e l'arcivesco cade morto a terra. Prima di lui avevano ucciso altri sacerdoti e laici che si opponevano alla violenza dei ricchi sui poveri. Quando affrontiamo il problema dell'ottavo comandamento ci limitiamo a considerare che non dobbiamo dire il falso, non è sufficiente. Bisogna impegnarsi a dire la verità perché tante volte là si nasconde la verità. Allora dobbiamo gridare dai 4 venti ai 4 venti qual è la verità. Il martirio di Monsignor Romeo qual è stato? Perché è stato assassinato? Perché la sua vita era una vita contestata. Radio, televisione, giornali, tutti parlavano male di Lughi. E perché? Perché difendeva i poveri, perché difendeva la povera gente, difendeva i contadini e quindi dava fastidio e viene eliminato. Le accuse che si facevano naturalmente erano tutte falsità. Spesso si dice l'ha detto la televisione o c'è scritto sul giornale, espressione che sottovalutiamo. Dunque se l'ha detto la televisione e quindi è vero. Di fronte alle informazioni dei mass media dobbiamo sforzarci di avere un senso critico nella ricerca della verità. Il pensiero dell'Apostolo Giacomo è molto chiaro. Il commento alla frase del Vangelo. Sia il vostro parlare, sì sì non no, esorta a tenere a freno la lingua, giacché se uno non manca nel parlare è un uomo perfetto, capace di tenere a freno tutto il corpo. Questo è San Giacomo. Possiamo farci una domanda. Quando incontriamo una persona per la strada, qual è il nostro giudizio? Positivo? Negativo? Ecco, facilmente noi scorgiamo piuttosto il lato negativo, magari il cappello che porti in testa, il vestito, il modo di camminare, eccetera. Ma cerchiamo di vedere che ha qualche cosa di buono. Questo sempre nella vita noi siamo portati a vedere solo i difetti negli altri e mai i pregi. Se stiamo attenti e vediamo i pregi possiamo senz'altro dire ma questa persona proprio vale e merita stima. In una società dove si vive di compromessi, furberizie e sotto vari sotterfugi. Dobbiamo impegnarci a rifiutare i pettegolezze, le bugie, la violazione dei segreti, la manipolazione della verità. Padre Pio fu accusato in un modo incredibile dalla stampa. Accusato padre Pio è accusato i frati che nella spartizione delle offerte avevano usato le mani, anzi armi bianche e armi da fuoco. Tanto da intervenire i carabinieri e il medico. Viene mandato subito un visitatore a San Giovanni Rotondo il quale va dai carabinieri e dice mi fate leggere il referto che avete scritto sulla faccenda dei frati del convento. E i carabinieri dicono noi non sappiamo niente. Va dal medico mi fate leggere il verbale delle medicazioni che avete fatto. Non sappiamo niente. Allora una notizia creata dal nulla che portò scompiglio nella opinione pubblica. Questo è il falso e noi che seguiamo e siamo aggiornati dobbiamo chiarire dove sta la bugia e dove sta la verità.